Innanzitutto grazie Filena per aver deciso di palesarti e di palesare la tua incertezza, la tua minchionanza, anzi invito anche tutti quanti gli altri a fare lo stesso sia in formato anonimo che in formato pubblico. Fate la richiesta della vostra minchionanza. Quello che tu mi hai chiesto è una cosa normalissima ed essendo un lavoro fatto di persone è inevitabile che ci sia una selezione naturale. Quello che tu vivi l'ho vissuto anche io sulla mia pelle ed è quella sensazione di avere quasi di tenerci di più tu rispetto a chi entra in attività al suo futuro e quindi quando li vedi immobili, quando li vedi fermi anche tu sei un po' incerta, ti vengono i dubbi se quello che stai facendo è giusto. Stai tranquilla, l'unica cosa che devi fare e che devi sempre continuare a fare è guidare con l'esempio, quindi farti vedere sempre sul pezzo e poi chi ti ama ti segue. Grazie a tutti.